Eccoci, eccoci come è stato, un buon sabato a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi, stanotte a mezzanotte gioca il Milan e che dire, prima di partire guardate nel sito qui sotto il sito appunto di magliette, questa l'ho presa lì, ne ho prese tantissime su questo sito le vedete quelle storiche ma non solo, ci sono felpi e tutto di più, questa è quella con la patch della vittoria della Champions League insomma la riconoscete di chi è, ve lo faccio vedere dopo, potete farvi un regalo, costa sulle 30 euro, c'è con il codice sconto AL10 il 10% di sconto quindi la pagate ancora meno, se ne prendete più di una c'è la terza in omaggio, insomma qui sotto c'è tutto, guardate, curiosate, riempietevi gli occhi e magari fatevi un regalo. Allora ragazzi, la domanda è se il Milan non prende Fofanà chi prende? su Fofanà si aspetta non so che cosa, che il Monaco abbassi le pretese, nel frattempo ecco è chiaro a oggi che il piano B che potrebbe diventare il piano A, si chiama Jonathan Cardoso, conferme sul giocatore, su Johnny Cardoso detto Jonathan, sul giocatore americano di 22 anni, alto 186 del Betis, che ha un contratto di scadenza nel 2029 profilo che ha fatto bene l'ultima stagione, che però ecco nel campionato spagnolo ha soltanto 17 presenze con un gol e due assist. Caratteristiche, è un giocatore molto versatile ed utile, può giocare anche un po' più avanti molto dinamico, recupera palloni, sinceramente lo sto un po' studiando in questi giorni però ecco sono perplesso perché passi da comunque un nazionale francese a un giocatore che come esperienza europea ha 17 partite in Liga, con gli Stati Uniti 15 presenze, conosce evidentemente Pulisic e lo stesso Musaco nazionale, ho la sensazione che se non fosse americano il Milan guarderebbe altrove per me è un rischio, poi magari è molto bravo, 22 anni, se però poi a 22 anni è difficoltà anche fisiologica di inserirsi, rischia di saltare un po' tutto lo schema, perché è un ruolo troppo importante in cui non puoi permettere delle scommesse. Vediamo che cosa succede su Fofana che ha fretta perché il primo d'agosto si deve ritrovare con la sua squadra e non vorrebbe farlo per poi andare via, vediamo che cosa succede con ieri Furlani che ha detto però senza fretta c'è ancora un mese di mercato, eh beh sì, tutti i club infatti ragionano così aspettano gli ultimi giorni. Quelli che devono fare la ciliegina sì, ma quelli che devono costruire la torta fare la base sicuramente no e questo secondo me è il caso del Milan. Da Fofana a Cardoso secondo me ci sono oggi non dico categorie ma certezze che vengono meno questo sì. Ditemi che ne pensate, siete favorevoli o contrari commentate, lasciate un like, date uno sguardo al sito qui sotto, questa non potete non averla, io ne ho due una di Inzaghi e questa che è di, non lo vedete, mi giro? Mi giro proprio. Ebbè, di Riccardo Cacà. Ho la mia collezione, mi raccomando date uno sguardo, codice L10 per lo sconto. Un saluto, a dopo.